40 scatoloni contenenti 12 uova di cioccolato ciascuno. Sono state 480 quelle consegnate oggi agli ospedali di Fanno e Pesaro dall'Africa che ama Ollus. Da sempre attenta alle persone meno fortunate, l'associazione ha deciso di compiere ancora una volta un duplice gesto di solidarietà. Proporre ai propri sostenitori ed amici di acquistare un nuovo solidale per contribuire alla realizzazione di un centro di maternità in Zambia e destinare i dolciumi al personale medico e sanitario. Stiamo costruendo un reparto di maternità che assicuri appunto la nascita di tanti bambini in sicurezza. La prima fase dei lavori è stata terminata e grazie alla donazione di queste tante uova sarà possibile ripartire con la seconda fase dei lavori. Quindi un grazie di cuore a tutti i sostenitori per questo importante gesto di solidarietà. Su ogni confezione Africa Chiama ha pensato di attaccare un cartoncino con su scritto il nome di colui o colei che ha deciso di acquistare l'uovo. Tra i benefattori anche i circoli anziani di Fano. Secondo me è importante, è un segnale di attenzione da parte anche di una categoria come quella degli anziani che in queste settimane stanno soffrendo perché non vedono i nipoti, non vedono i figli, sono dentro casa e quindi ecco è un segnale di attenzione, di dimostrazione, di affetto e di riconoscenza. Diversi i medici e gli infermieri che non sono voluti mancare alla consegna questa mattina dimostrando la propria avvicinanza e gratitudine. Tra loro anche il dottor Balletta, medico cardiologo che aveva in cura il presidente dell'Africa Chiama Italo Nannini, recentemente scomparso. Hanno sempre lavorato con una serietà e con una dedizione, veramente solo per scopo di diciamo per aiutare il prossimo e per aiutare l'Africa. Sono veramente persone esemplari e con la loro associazione hanno sempre avuto grossi risultati. A ringraziare poi tutto il personale sanitario e a lanciare un appello ai cittadini è stata Maria Teresa, volontaria dell'Africa Chiama e moglie di Nannini. Questa iniziativa ci ha spiegato, l'abbiamo pensata quando ancora Italo era in vita. Io sono sincera, mai una volta ho avuto l'idea di lamentarmi della struttura sanitaria. Quando invece aprivamo i telegiornali prima di questa emergenza sentivamo sempre e solo le critiche sul sistema sanitario. Quel medico aveva sbagliato, quell'infermiera aveva trattato male il paziente. Adesso queste parole dobbiamo tutte rimangiarcele perché è solo grazie a loro se qualcuno di noi riesce a sopravvivere. È solo questione del personale sanitario, medico e tutti, che veramente tolte qualche rarissima eccezione si spendono per gli altri, per chi ha bisogno. Questa è una cosa che io mi sento di dire, la voglio dire perché è importantissima. Non ce lo dimentichiamo quando sarà finita l'emergenza.